Musica Oggi abbiamo vinto la medaglia d'oro nel tiro con l'arco a squadra femminile. È stata una finale molto combattuta, eravamo contro la Bielorussia e abbiamo trovato delle condizioni climatiche un po' particolari, nel senso che ci sono state delle folate di vento, abbiamo dovuto giocare molto sulla strategia e comunque sui consigli che ci diamo l'un l'altra. Quest'anno è cambiata la tipologia di gara, avevamo i set system al posto del punteggio, quindi ogni volè si riparte da zero, bisogna cercare di aggiudicarsi il set. Sono felice per questa gara di oggi, sono felice anche per la gara di ieri che abbiamo vinto a squadra mista con Mauro Niespole. Veramente Mauro è stato molto forte di andare avanti, io li ho seguito e abbiamo vinto anche lì. Perciò veramente è il massimo che abbiamo potuto fare fino adesso perché da domani cominciamo individuali. Con Natalia Valeva è stata una bellissima gara, abbiamo vinto un bellissimo oro, il primo per l'Italia nel mix team di tiro con l'arco. Ci siamo divertiti, divertiti è la parola giusta, abbiamo superato uno scontro alla volta, scontri non sempre semplici, non sempre facili, dove abbiamo dovuto impegnarci molto, dove abbiamo dovuto recuperare anche qualche errore di troppo. Le ragazze sono state bravissime a conquistare l'oro anche nella squadra femminile, anche nella gara squadra femminile. Noi purtroppo ci siamo andati vicini ma ci siamo dovuti solo fermare i quarti con la squadra maschile, ma sicuramente ci rifaremo per l'individuale perché la voglia di tornare sul podio è tanta sia da parte mia sia da parte dei miei compagni. Per noi questa gara aveva un significato doppio, la prima perché tra un mese abbiamo la qualifica alle Olimpiadi e è un appuntamento che non possiamo sbagliare, e secondo perché essendo anche i primi giochi olimpici europei ci tenevamo comunque a fare una bella medaglia e ce l'abbiamo fatta. Io volevo fare un ringraziamento speciale all'aeronautica che ci dà la possibilità di essere qui e di allenarci tutti i giorni, e un ringraziamento anche ai miei genitori e al mio compagno che mi sopportano tutti i giorni. Io vorrei ringraziare la mia famiglia che comunque mi dà ancora la possibilità di fare quello che mi piace di fare, la federazione che mi sopporta e mi dà la mano, la mia società di Castenaso, il centro Riacev che mi mantiene sana fisicamente perché senza fisioterapista più si va avanti più fai fatica di andare. Grazie alle forze armate, all'aeronautica in particolare abbiamo la possibilità di fare questo sport da professionisti. Grazie alla mia famiglia, mio papà che è il mio allenatore e a tutti quelli che mi sono vicini e che ci supportano da lontano.